Allora ragazzi, appassionati di un pezzo, sto per aprire per la mia primissima volta OP05 un pezzo. Quanto siete eccitati da 1 a FC25? Come 0? Da 1 a GTA 6 bro, da 1 a GTA, da, da, da FC25 a GTA 6, quanto siete eccitati? GTA XVI! Eh, regà, allora, io vi dico una roba. Allora, qui siamo su Twitch, quindi voi siete molto più tranquilli, ma sicuramente questo finirà pure su YouTube. Quindi devo dire una cosa ai ragazzi di YouTube, perché questo verrà visto sicuramente da grandissimi fan di One Piece. Non ho mai visto l'anime, non ho mai letto il manga. Ho visto soltanto la serie animata di Netflix. Allora, prima che le persone verranno da me a dirmi, e allora perché apri questo pezzo de' merda solo pei sordi o fai più de' una mignotta, eeeh, sti content creator del cazzo che fanno cose de' che non è, che de' che non gli è rispè, che non è che... Me l'hanno regalato, eeeh, mi è stato regalato. Ho intenzione di recuperare un pezzo, lo voglio recuperare. Io sapevo di un remake, eeeh, che uscirà su Netflix senza filler, che dovrebbe uscire non so quando. Eeeh, quello era il mio obiettivo. Era, il mio obiettivo era, era vedere quello lì. Eeeh, fatto da Wit, no? Che è la casa di Attack on Titans delle prime, delle prime tre stagioni, me sembra, no? Sicuramente ci metterà un po', però purtroppo recupera One Piece, o smetto di lavorare, o non lo posso recuperare ad oggi. Certo che me lo guarderò, me lo guarderò assolutamente sì. Quindi noi siamo qui per trovare le manga e le zinone! Per me, però, allora, io non ho... Allora, un ragazzo, che è il ragazzo che me lo ha regalato, poi tra l'altro, che ringrazio tantissimo. Ha provato a spiegarmi le rarità, non ci ho capito un cazzo. Quindi per me, non c'è modo migliore di scoprire aprendo, ok? Quindi inizialmente sembrerò un po' ignorante. Diciamo che le Chase Card sono la manga di Luffy. Poi che c'è? Ci sono altre due manga, c'è Luffy autografato da Oda. Ci sono delle belle carte qui dentro. È la mia primissima volta, ragazzi, in Sardegna questa. È la mia primissima volta. Cioè, io non ho idea quanto è difficile. Molto troppo. Una su ogni due, tre case. E dentro un case quanti box stanno, però? Di più dei Pokémon, non so, sei, sono dodici. Sono dodici box. È una su ogni trentasei box. E che problema c'è? È questo, ragazzi. Ah, comodissimo questo coso che pensavo funzionasse, invece è una merda. È quello degli estate. Aprile come coi Pokémon. Allora, la rarità delle carte, io non ne ho la più pallida idea. È l'ultimo, il pool è sempre all'ultimo? Il pool è sempre all'ultima... All'ultimo, ok, ok, ok. Ok, ok. Eh, Nico Robin e Boyhancock, sì, ci dovrebbero stare. Ma io sono un grandissimo fan di Nami. Se posso salutare una degna cosplayer, un saluto a Molly Redwolf. Almeno 4-5 seghe su quel porno me ce le so tirate. Vai! Non si può trovare nulla di importante nelle comuni, immagino, no? Ok, ok, quindi vediamo solo gli artwork. Che saranno solo spoiler per me. Perché non so chi cazzo sia questa gente. Oh, bello. Akuba. Bellami. Ma che te frega? Ma infatti. Dragon Claw. Saint Roseworld. Ma chi è sta gente, bro? Ma quanti personaggi stanno su One Piece, bro? Ma sono tipo infiniti. Veramente tanti. Oh, che è sta roba? È un leader, bro. Leader dei sabbo. Ma sono garantite? È leader garantite? Ma non costano una sega, però, immagino. Bella, oh. Ammazza che bella, oh. Vedi il back? Ah, sì. È rosso. È rosso. Molto... Ma non ha bisogno di sleeve, immagino, questa. No, regà, dai, non cappate. Dai, ditemi i prezzi. Ok, ok, ok. Manco questa ha bisogno di sleeve. Bellissima, però. Molto, molto bello come è disegnato. Oh. Sarà una semplice rara, ma è bellissima. Artwork è super figo. Artwork, poi, io penso che questi disegni siano presi proprio dal manga, immagino. Questo penso di no. Ah, ok, no, no, artwork. Ok, top, top. Molto bello. È la stellina pure, è una roba che non ho capito, in realtà. La stellina non l'ho capita. La stellina dov'è che dovrebbe stare? Sopra la R? Ok. Perfetto, grazie. Top. L'importante è sapere, regà. L'importante è sapere. L'importante è sapere, vai. È il capitano. Ma chi è sto coglione? No, avanti. Dammi una bella sisona, oh. Stainless. Ma che cazzo? Ma chi è sta c'è? Oh, bella. Mi piace un sacco questi artwork così. Questa è una carta evento? Che si chiama... Questa è character, sono tutte character, però questo è evento. Molto carino. Sto a cercare di capire, eh. Molto bello. Sì, si vede che è dar manga, figo. Mo' ragionamo. Mo' se ragiona, ragazzi. Nico Robin. Nice tits. Boh, la cosa buona dei One Piece è che non so manco minorenni. Godo. Se possono fare dei commenti. Punk Rotten. Bastille. C'è la reverse. Vabbè, ma un paro dei sbucioni ce stanno. Pure questa mica è male, eh. Bella, oh. Bellina. E... E c'è Emo Drake. X Drake. La qualità delle carte mi casa. Sono belle simica, sono quelle dei Pokémon. Emoci sorridente. Guarda che... Non è che se svaluti qualcos'altro, allora diventa più bello quello che fai te, eh. Non è così che funziona. Allora. Andiamo. Binder delle troie di One Piece. Capiamo, ragazzi. John Giant di nuovo. San Carlo. Basil Hawkins. Oh, bello. Stage. Che figa da queste carte. Birdcage. Autori. Interessante. Sì, bello. Come c'è roba. Oh! Slippala, dai. Miss... Mamma mia, Miss Double Finger. Mamma mia, uno in culo, uno sul cazzo. Lo voglio, sulla cappella. Mazzezine. Subito nel binder delle troie, questo. Oh, che carina. Ma ste carte sono una figata, oh. E sotto? SR, bro. Bello. Bello. È nel... Che non so chi sia, ma è molto bello. È nel gas e luce. È ispirato ad Eminem. Infatti... Non so se è una cazzata quello che dici, però... Però è bello, molto bello. Ah, bello. L'SR la sliviamo. SR si sliva. Si sliva pure la sisona, che magari finisce davvero... Nel binder. Allora. Andiamo avanti. Totò. Lui è ispirato a Totò, invece. Quello è il napoletano. Vero? Uh. Bello. Gladius. Ammazza che bel personaggio. Cioè, se mi sembra molto bello... Come... Come personaggio. Sta in coglione. Ok. Carino. Yama. Mr. One. Eh. Molto carino questo disegno, ti dico la verità. Alt. Chakra. Oh, bella, oh. Che figo. Abbiamo trovato un'altra leader. Molto bella, tra l'altro. Che figa è StarTalk, comunque. Che figa. Abbiamo una rara. Figa. Ma che figa, oh. Che personaggio corazon. Dammi sta manga, dai. Oh, bellina. Carina, oh. È veramente strano, non capi un cazzo di quello che sto apri. Vedi che è la verità. Però sono fighe. Sono molto fighe. L'olografia spacca il culo. Molto bella. Eh sì, questa è proprio la tavola del manga, capito? Vero? Dovresti leggerlo se ti piacciono. Mi piacciono. Sono molto, molto belle. Prossimo d'apri è Dragon Ball. Almeno One Piece c'ha un po' de mercato, frate. Dragon Ball le compri te, carte. Poi. Nemmeno te le compri. Andiamo. Oh, bellissimo. Che è sto serpentone? No, là. Alt. Bartolomeo Kuma ti dice di stare fermo. Ancora Santo Roseward. Basi Lokins. Questo qui l'avevamo già trovato. Gimbe. Figo. Tipo, ecco, questo qui è proprio tavola del... Cioè, è tavola del manga questo. Eh, fighissimo. Ammazza che disegni, bro. No, non mi va di leggerlo, regà. Non mi va... Non mi va di leggerlo, ragazzi. Porco giusto, divento matto. Ma poi ho visto un... Una volta ho provato ad aprire... Ho provato ad aprire tipo... Ma che divoro, bro. Non so leggere. Ma poi ho provato ad aprire uno. Ma quanto parlano? Ma parlano troppo, bro. Mamma mia, Amazon. L'inizio era molto più scorrevole. Eh, vabbè, allora all'inizio magari sì. Leader. Oh. Che stazzi? Non ha gialle rossa. Porco zio, bro. Leader. Cine AS Roma. È la mia carta preferita. Vaffancula le manga. Belo Betty. Questa si slibba subito. Bellissima. Bro, guarda colografia, oh. Cioè, fermala, oh. Quindi si può trovare pure... Cioè, scusami. Questa qui la posso trovare anche olografica, ovviamente. Ah, alternative. Ok. E ce n'è una garantita per box. Non leader, però. Ok. Ok. Ma c'è un'altra carta. Bro, ma... Scusami. È normale che ci siano due reverse. O due olografiche. Non so come vengono definite. Avete visto? Ma che è sta mannata di carta? Il donna si usa per giocare due box garantiti. Ma è bellissima. Slib, eh? La slibata. Sempre tavola del manga. Me volete far... Me volete convincere, eh? Questo video è... Convinciamo Zano a iniziare One Piece. Altro che OP05. Fammi slibba subito, ragazzi. Non ha giallo-rossa, va. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Posso avere un W in the... Un W in the chat, dio, cazzo. Andiamo, andiamo avanti. Finisce che ti hai dato i metà dei personaggi. Porco zio. Bella personalità sta, ragazza. Devo dirti la verità. Non male. Robby. Andiamo. Ancora Stainless. Maynard. Olli. Ma è un cane gigante. Bello. Molto bello. Niente, ho le carte... Cioè, assurdo, perché pure questa qua è uscita dal manga. Le carte che mi piacciono di più sono... I disegni del manga. Baby 5. Io andrei avanti. Non mi soffermerei troppo lì. Emporio Energy. Andiamo avanti. Un'altra volta qua sto coglione coi baffi. Ah, eccolo Trafalgar Law. È vero. È vero. Qua è da piccolo, ovviamente. Però l'abbiamo già trovata. È quello... Devo vederlo da grande. Però ma che cazzo de... Dei disegni so. Vabbè. Niente, mi tocca iniziarlo. Che palle. Ma che cazzo glielo ha? Forse per il binder delle troie è esagerato questo. Beh, c'è da dire che quelle dei Pokémon sono tutte minorenni. Non è piccola, è un folletto. E allora vai dritta lì, amica mia. Rara. Om. Bello. Molto bello. Ok. Quanti pacchi sono? 24 pacchi. Io sto andando sinistra, poi destra. Sinistra, poi destra. Allora, il capitano. Ok, qui stiamo trovando un po' le stesse carte. Quante sono nel set? Quante carte sono in questo set? Barrels. 90. Ok, quindi set generalmente non sono grandissimi. Gamma knife. Mo. Mo. Vabbè, ragazzi. Non male, Viola, eh. Non male. Elisabello II. Chi è quel monkey di Garp? Vabbè, non me lo dite. Non me lo dite. Iron Nonno. Vabbè. Niente, ma l'avete detto. Firefist. Figa. Secret Rare. The Rob Lucci. Ah, Super Rare. Non è Secret Rare. Ok. Allora, Super Rare. Andiamo avanti. 15 euro. Ragazzi. Vi ricordo che su Car Market, poi, ci potrebbe essere una situazione. La Secret c'è. Ah, è Sec. La Secret. Ok. Da 3 euro Lucci. Vabbè, è buono, dai. Banni Joe. Ma intanto qui è l'esperienza, ragazzi. Poi, se dove... Cioè, sti cazzi. Poi sarebbe bello trovare la manga, ecco. Quelle che hai slivato non vargono niente. Ma lo so, lo slivate perché sono duzzinnone e perché mi piacciono. Sarquis. Olli. È ritornato. RikuDollo. Ok, it's a waste of human life. Questa l'abbiamo già trovata. Bird Cage l'abbiamo già trovata. Konis. Stava appoggiamo da un'altra parte. Mi sembrava... Mi sembrava l'olografica. Ma Nami... Nami ce l'ha una prorompente in questo set? No? Ok, ok, ok. Va bene così, va bene. Anvedia, oh. Shiraoshi. Bellissima, regà. Ma ste carte sono una figata, oh. Abbiamo un'altra super rara. Eccolo. Trafalgarlo. Super raro. Bello. Che feo. Valentino Rossi. Perché hai il limite di 250.000 bit? E tu donali. Poi vediamo se lo riusciamo a superare. Io slevo pure sta troia. Te dica la verità. Frega un cazzo. Andiamo avanti. Non è minorenne. Non è minorenne. Non può essere. Lei è minorenne. La lascerò comunque qui. Tanto ormai quello dei Pokémon è andato. Totò. Andiamo avanti. Prima che me ne esco con roba strana. John Giant. Ak. Dragon Claw. Pell. Il Toy Soldier. Questo mi pare d'ave l'ho già visto, ad esempio, da qualche parte. Non mi ricordo dove, però mi pare d'ave l'ho già visto. Oh, bellina! Abbiamo un'altra leader. Figa, oh. Che figa le leader, cazzo. Belle, oh. Vergo. Ma che c'è? Le forchette appiccicate in faccia. E poi abbiamo i show. Ah, ok. E questa è l'altra... Come si chiama? La Don. Che sono due garantite. Quindi le appoggio lì e sti cazzi. Finite le Don e i leader base. Quindi adesso siamo fondamentalmente alla ricerca del ciotto e basta. No, mancano un bel po' dei pacchettini, brother. Dai, caccia sta manga, su. Nola. Bunny Joe. Robby. Ma per me i pull sono pure le zinnone, regà. Cioè, io sto... Sto tutto clueless. Bellami. Birdsep. Via. Ti hai visto il pull? El Thor. Fra Nosuke. Siamo la rara. Oh. Questa è la Secret Rare. Ma che carta è? Oh. Ma è bellissima. Fichissima, cazzo. Raga, aspetta, va a zoom un pochetto che... Oh, mo' così lì vada, però se vede peggio. Una manata, però, oh. Quattro euri, fazzo. Ma come quattro euri? Ma è bellissima. Una carta così bella? Quattro euri. Costa sette. Buoni, dai. Ma quante secche escono per box? È random o c'è un garantito che rimane a una? Quindi me la so giocata fondamentalmente. Mi manca l'alternative. E la manga. Perché ovviamente la manga sta qua e la troviamo. Andiamo. Maynard. Sterry. Sto coglione. Burkage. Ancora Hitler cane. Baby5. All'alternative la posso ancora trovare. Ok. Ok, ok, ok. Bellissimo. Fichissimo sto disegno. Nico Robin. Again. Mi sa che Slivalla forse ne è stata una bella idea, bro. Ah, non l'ho Slivata, vedi? Godo. Ok, questa l'abbiamo già trovata. Ci sta. Carina. E questa pure l'abbiamo già trovata. Ok. Next. Abbiamo finito la prima parte. Abbiamo finito ufficialmente la prima parte. Siamo a metà. Cioè questo è l'ultimo pacco della metà. Della prima metà del box. Onekichi. Alt. Via. Buffalo. Mozambia. Charstone. Questo qua l'abbiamo trovato 74 volte, penso già. Upper yard. Uso Ashi. Abbiamo leader. Ma avete mentito? Avete detto che erano finite le leader. Non è vero. Eccola qua. Ce l'abbiamo un'altra. Bell'obetti. Questa qui pure l'abbiamo già trovata. E abbiamo un'altra rara. Via. Se esce la leader sotto non c'è niente. Ah. Ok. Ok. Vedi non lo sapevo. Manca l'alternative. Regà. Manca l'alternative. Calma. È garantita. Lo sappiamo. E l'alternative della manga regà. Non dovete stare calmi eh. Guarda che la manga sta qua al sicuro. Cioè è proprio 100%. È garantita qui la manga regà. Bannigio. Gladius. Mr. One. Gamma Knife. Busty Lockins. Pure questo qua me l'ho trovato 60 volte. Inazuma. Kotori. Kotori. Kotori immagino si pronuncia. Chi è sto coatto? Per cobra. No. Trollato. C'è ma ancora la folletta. Un'altra super rara. Questo voglio vedere da sto set. Lì. Valava. Molto carina. La fregna. C'è l'alternative molto bella. Ma l'alternative sotto è sempre... È secret rare l'alternative. Come rarità. È sec. Immagino. No? Dipende di cosa la trovi ma ha la stellina. Ah ok. Però c'è la stella. Ok ok. Quindi l'alternative la riconosci dalla stellina. Ok top. Stainless. Olly. Sterry. Charleston. Yama. Revolutionary Army HQ. Per nonno. Quanto è bella frate. Vabbè che non costa un cazzo. Però è bellissima. Quanto è figa. Stupenda. A due centesimi. Infatti. Però è bellissima. La carta è proprio bella. Quando trovi leader non trovi mai SR. Quindi qua sotto non c'è un cazzo. Quindi lo sai che... Lo sai in cosa si spera? In un'azzinona. Invece te becchi un berfumine. Un berfumine in gola te becchi. Andiamo. Allora. Calcola c'è stato un illustratore dei Pokémon anche qui su One Piece. Io se non sbaglio era One Piece. Mi sa che in un OP nuovo ci dovrebbe stare un artista che è Peach Momoko che ha fatto le skin pure per Marvel Snap se non sbaglio. Ne sa di sì. Sta stata la cazza è Peach Momoko che ha fatto pure roba per Marvel Snap che è una figata. Fortissima Momoko. Fortissima frate. Buffalo. Pagaglia. Jimbe. Aridai con Amazon. Bea. Nami. Porco Dio. Scusate. Se posso. Che U. Alternative. Bella oh. C'è anche un accenno di zina eh. Se non vale un cazzo la metto nel binder delle troie se non la vendo. 10 euro binder delle troie. Benvenuta cara. Ho controllato su Vinted ho trovato il 269 quello con l'ascia solo che non so come fa a capire se è originario o nonno dato che li vendono pure su Aliexpress e mi vorrebbe all'inculata. Eh lo so. Quello è un rischio. Vabbè 10 euro i boni bro. Finisce nel binder delle troie. E si abbracciamo. Vai. San Carlo. Totò. Barrels. Burzep. Santo Rosward. Sto coso. Il sordatino. A leader di Eminem ragazzi. Leader di Eminem. E quindi significa che qua sotto non c'è un cazzo. Oh ma se è figa. E vabbè. E andiamo così. Però è bella. Le leader sono proprio fighe da vedere. Varranno una sega ma un po' belle. Le leader alternative sono devastanti. Io ovviamente non potrò più trovare un'alternative in questo box. Ormai è finito il pool. Cioè non... Deve essere tipo rotto airbox per trovare qualcosa. Immagino. Puoi. La leader alternative potresti. Ok. Cuciniamo. È un pool extra ma non è garantita. Come la manga quindi. Ok. Pell. Gamma Knife. Dragon Claw. Bastille. Il Thor. Lindbergh. Oh baby 5. Ma è rotto il cazzo. E che è? Baby 5 box ragazzi. Akuba. Buffalo. Stainless. Questo qua. Come si pronuncia sta cosa? Miosgard. Miosgard. Tipo Mjolnir. Miosgard. Ak. Jinbe. Porca. Bro. Comunque Zin ed è sta carta sono incredibili. Cioè complimenti. Complimenti. Punk Rotten. Oh. Ma un'altra volta sto coglione regà. Niente. Bella. Ma che figo. Guarda coi tornati dietro. Gasao. Shura. Carina. Con le olografie che soffidissime. Mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6 pacchettini ragazzi. Maynard. Kuma. Spacey. Mary. Yama. Inazuma. Accia. Il tuo coglione un'altra volta. Drake. Il borsalino. Super raro. Che disegni cazzo. Come il fascio. È fascista? Lo slivo subito dai. Lo slivo e lo metto al contrario. 4 centesimi. Gli levo subito la slive. Che cazzo. E sto a finire slive. Sto a sliva e troie. Damo le priorità. Nola. John. Onekichi. Charleston. Pell. Gamma Knife. Stick. Stick and Meteora. Elisabello. Elisabello. Ranusche. Ah ok. Ercoso. Manga dai. Che figa. Pica. Pazza carina oh. Guarda come non volete spoilerare. Quindi vi limitate a dire il nome. Mi viene. Buono 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 buono. No ma è impossibile. Chi le trova la manga frate. Fida. Cioè. Impossibile. Mancano. Questo è. Questo più altri tre pacchi. Birdcage. Ricudoldo. Emporio. Barrels. Stage. Il colore mi aveva un sospettito. Capito? Oh. Vivi. Molto bene. Carino. Vivi se slive. Aridamma slive del fascista. Questa se può slivare. Fotta in cazzo. Che costa due centesimi. Ultimi tre pacchi ragazzi. Dai da scena leader alternative. Dai. Fare bravo. Che cazzo. La leader alternative. Su. Almeno. Banni Joe. Erdalmada. Ciopa. Roby. Nell. Baby 5. Baby 5. Ak. Yama. Er nonno. Evento di Elthor. Abbiamo ancora Vergo. Raro. E Homme Merd. Raro. Per quarto pacco. Ne mancano due. Eh rega. Tupac. Magari se sta a tenere per l'ultimo bro. Se sta a tenere la sorpresa per l'ultimo. Nola. Sta a caricare la bomba. Per classico. Gamma Knife. Emporio Energy. Emporio Ivankov. Abbiamo ritrovato un'altra volta lei. Che va benissimo. Fa sempre piacere trovarla. Abbiamo un'altra alternative. Trafalgar Law Alternative. Questa è figa oh. Figa vera oh. Pazzia che belle le olografie. Il disegno eccetera. Bello bello. Figa. Vedi che però qualcosa alla fine ciò stava da. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene così. Va bene così. Va benissimo così. Ultimo pacco. Allora. Pensa se mo' nell'ultimo pacco invece ci fosse la manga. Tiramola fuori ragazzi. Tiramola fuori. Andiamo. Quen. Mister One. Ino Bird Zap. Waste of a Human Life. Senza. Natroia. H. O Accia. Penso Accia. Stage. Ina. Regà. A dirlo fuori così. Così. Senza sapere né leggere né scrivere. Così. In tre. Due. Uno. Un altro Valentino Rossi. Trafalgarlo Box. Figo. Vi dico la verità. Prima. La mia primissima volta. A sbustà. Nonostante poi. I personaggi. Io non sia. Molto familiare con i personaggi di One Piece. Lo sapete. Ma. Disegni. Illustrazioni. On point. Pool. Fighi. In realtà. Molto figo da sbustà. Bellissimi disegni. Poi. A me. Vedi la roba è che. Comunque. I pool. Saranno anche pochi. Alla fine. No. Però mi sono divertito. Proprio in generale. Perché. Veramente. Delle artwork. Incredibili. Nonostante io poi. Non abbia visto manga. Non abbia. Cioè. Non abbia letto il manga. Ho visto l'anime. Mi sono divertito un sacco. In futuro. Lo sbusterò di nuovo. Ma perché no. Non abbia letto il manga. Non abbia letto il manga. Non abbia letto il manga.